Cari lettori di Caffeina, Cristina Scuccia è tornata verissimo. Ma chi è Cristina Scuccia? Molti di voi già ne sono a conoscenza, ma per chi non lo sapesse, Cristina Scuccia è l'ex Suor Cristina, ovvero con lei che ha vinto il talent The Voice of Italy nel 2014 e ha partecipato allo show Ballando con le Stelle su Rai 1. La donna è tornata nel salotto di Silvia Toffanin perché dopo la prima intervista si è sentita libera, come se qualcuno le avesse tolto un peso di dosso. Cristina ha raccontato della sua nuova vita, piercing, amici e balli in discoteca. La donna si sta divertendo a fare cose semplici, è stata felicissima di poter trovare nuovi amici e di uscire a cena divertendosi con cose veramente quotidiane. La sua vita in questo momento è fatta di continue prime volte, per esempio il piercing è un desiderio che aveva sin da quando era adolescente ed ha avuto il coraggio di farlo così passando casualmente da un negozio di tatuaggi. Tutto questo l'ha aiutata ad esprimersi e oggi si sente molto meno chiusa in se stessa. Ha anche raccontato di quanto sia stata felice di indossare per la prima volta il velo e di quanto le sia sembrato strano camminare per la prima volta in abiti civili. Come dovete sapere, Cristina ha un animo un po' rocchettaro, infatti la sua prima uscita ha indossato dei jeans con le catene. Ha percorso chilometri e chilometri a piedi mentre mandava farfalle a tutti i suoi amici su WhatsApp. Una nuova vita, certamente, ma con l'amore per la fede ben saldo e noi auguriamo il meglio a Cristina. Grazie a tutti i nostri amici.